e salve a tutti ragazzi sono ciccio bionici buona domenica a tutti siamo qua su seno work e ragazzi io questo videogame lo farò ogni domenica e io lo provo con voi e ragazzi in questo video andate in alto a destra su info a vedere media soldi e su un nuovo gameplay che ho fatto nel canale iniziamo è in terza persona quindi spazzate spazzate cambiamo arma tipo dei clicker però non è perfetto no sono morto ok ti hanno fatto secco rigenerati ti vuoi che non mi sono gli animati ragazzi perfetto vieni qua tu ragazzi due colpi e mi uccido quello è un clicker davvero perfetto ho rotto tutto il vetro il moto ragazzi siccome io sono in battaglia dovrei bere ok io dovrei scendere guardate stiamo tornando indietro ok 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 abbiamo raccolto un bel po' di soldi oh oh ragazzi ce ne sono ancora no sì perfettissimo quanti sono quanti sono quanti sono quanti sono quanti sono quanti sono quanti per correre non ti preoccupare non ti prende cosa non ho capito che non capisco cosa io scappo come uccido ma dico magari perfetto obiettivo completato delle armi no ragazzi questo videogame lo farò ogni domenica vediamo se va tutto ok penso che si deve andare di qua acquisto potenziali di piano incremento di danno incremento di salute di potenza io farei di saluto perché il danno ce l'abbiamo perfetto usciamo perfetto la salute la cosa qua perfetto ok ragazzi siamo entrati niente ragazzi questo era la prima parte non so quanto ne faremo spero che questo video vi sia piaciuto lasciate un bel like e ragazzi iscrivetevi al canale condividete questo video e noi ci vediamo in uno prossimo video